Parlare ai vostri simili Voci dall'infinito attraverso Wanda, 8 giugno 1988, a cura di Vubbi, i fratelli cosmici Ennu. Ora per te e per tutti coloro che condividono il tuo pensiero, c'è rimasto un lavoro di rifinitura. Dovete cesellare la vostra opera per portarla al massimo splendore. Il lavoro che dovete ancora svolgere è di parlare ai vostri simili e far loro comprendere la grandezza dell'amore. Dovete sostenere tutte le creature che vivono prive di questo sentire, specialmente quelle che pensano che la vita non vada oltre la morte fisica e si dibattono senza riflettere. È un pensiero che viene esposto e sostenuto da una moltitudine di persone. Dovete parlare a queste creature e dare loro il vostro sostegno per avvicinarle, almeno in parte, alla verità. Anche noi, sorella, stiamo svolgendo lo stesso lavoro insinuandoci nel loro cuore. E se potessimo agire all'unisono, otterremo un grande risultato nei loro confronti. Prodigatevi, lavorate se volete raggiungere più in fretta l'obiettivo. È il vostro compito e sarà gratificante per voi perché riceverete il giusto premio. Vi è stato detto, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Perciò bussate e chiedete perché troverete tanti esseri pronti a offrirvi ogni chiarimento. Vi salutiamo sorelle e fratelli, salve dai fratelli cosmici e nu.